L'avventura di luce ha fatto incontrare l'Università Yulm con SkyArt. È una serie molto particolare perché è stata realizzata dagli studenti della laurea magistrale in televisione, cinema e new media. Nelle sue quattro puntate vuole raccontare il mondo della magia, della luce attraverso varie storie, le storie della poesia, attraverso una serie di interviste alle più importanti poetesse del nostro paese, attraverso il cinema e i direttori della fotografia, attraverso il design e attraverso la light art in un viaggio internazionale in Norvegia, Giappone e in Germania. Quello che resta di questa avventura è il fatto che i ragazzi abbiano potuto costruire un loro racconto incontrandosi attraverso la camera con personaggi davvero speciali. Credo che la fortuna di questo progetto sia stata quella di avanzare nell'abitudine di saper raccontare storie importanti. Per tutte queste ragioni non potete assolutamente perdere allora le quattro puntate che andranno in onda dall'otto febbraio alle ore 20 e 40 su Sky Art.